Buongiorno, benvenuti ad un nuovo appuntamento in diretta con l'informazione di Udinews TV. Apriamo con la cronaca, con un'operazione che si è verificata questa mattina a Cividale, blitz della polizia al Civiform. Una trentina di agenti tra polizia della squadra mobile di Udine, del reparto anticrimine di Padova, oltre ai colleghi della Guardia di Finanza con l'unità cinofila composta da due cani antidroga, hanno effettuato dei controlli specifici all'interno dell'Istituto di Formazione, che ospita anche un centinaio di minori non accompagnati di varie provenienze. Proprio domenica pomeriggio era scoppiata una maxirissa all'interno dell'Istituto, vicino al campo di atletica, che vedete nell'immagine con il coinvolgimento di un'ottantina di ragazzi di due differenti etnie, kosovara albanese e pakistana. I due gruppi si erano affrontati anche con spranghe e bastoni. Sette erano finiti al pronto soccorso, 25 i denunciati. Nell'occasione un minore era stato anche denunciato per detenzione di sostanza stupefacente, nello specifico 4 grammi di hashish. E da qui i controlli di questa mattina, cominciati la mattina presto, e che dai risultati sembrano non aver portato per ora a segnalazioni o sequestri militari. Dicevamo una trentina fra agenti della Polizia e Guardia di Finanza sono intervenuti all'interno della struttura, mettendo al setaccio aule, corridoi e bagni per capire se all'interno del Civiform ci fosse infatti della sostanza stupefacente. Un controllo che fa seguito a quelli già stati effettuati all'interno di istituti scolastici di Udine, nella fattispecie negli ultimi giorni erano state controllate le aule dello Zanon, oltre che la zona di Via della Faula dove al terminal studenti arrivano molte corriere provenienti dalla provincia friulana e che erano state controllate sempre con l'ausilio dei cani antidroga. Abbiamo fatto queste immagini proprio stamattina al Civiform per testimoniare le operazioni di Polizia e Guardia di Finanza. Abbiamo anche voluto ascoltare il direttore Daniele Bacchette. Benvenuti a verificare la situazione qui al Civiform di Cividale. Siamo con il direttore Daniele Bacchette dopo l'ultimo episodio di cronaca. Chiare si respira qui al vostro centro? La situazione è tornata alla normalità. È stata gestita nel momento difficile che è accaduto domenica pomeriggio. È stata gestita dai nostri educatori e grazie all'intervento delle forze dell'ordine che è stato tempestivo ed encomiabile. Adesso noi stiamo provvedendo a trasferire tutti i ragazzi coinvolti e denunciati. È un processo un po' lento perché i comuni ai quali sono affidati devono trovare altre comunità che siano disponibili ad accoglierle, che abbiano posto e che siano disponibili. E comunque è un processo avviato per cui all'interno la situazione al momento è tranquilla. Quindi abbiamo ripreso le misure. Stamattina c'è stato un ulteriore controllo. Gli esiti poi saranno resi noti dalle forze dell'URI. Ma raccontiamo qual è l'attività di questo centro molto importante in Friuli. Sì, noi accogliamo minori stranieri non accompagnati come altre 22 comunità di questa regione. È un fenomeno che si è molto intensificato negli ultimi anni nella nostra regione. Svolgiamo un servizio per conto degli enti pubblici che sono affidatari di questi ragazzi. Il servizio prevede l'inserimento di questi ragazzi in struttura, la realizzazione di un progetto di vita, di inserimento, di integrazione che si esplica attraverso tutta una serie di attività che vanno dagli aspetti formativi a quelli sanitari, a quelli educativi, che sono molto importanti. Questo ci ha consentito questo tipo di attività. La svolgiamo da oltre 20 anni. Purtroppo ogni tanto succedono degli incidenti perché in comunità così numerose è quasi impossibile che non si verifichino degli incidenti. Questa volta è stato un incidente di una certa gravità, ma abbiamo assolutamente ripreso le misure. Ecco alcuni numeri rispetto agli ospiti che avete qui. Sì, gli ospiti prima dei trasferimenti che stiamo effettuando qui a Cividale erano circa un centinaio. Adesso scenderemo a meno di 80. Rispetto anche alle polemiche che sono scaturite, alcuni hanno chiesto anche di militarizzare la struttura, forse un po' troppo eccessiva. Noi abbiamo da sempre un'ottima collaborazione con le forze dell'ordine che sono presenti, vengono ogni volta che le chiamiamo. Anche questa mattina sono intervenute di loro iniziativa e abbiamo chiesto anche di ampliare i controlli che avevano previsto di fare loro. Quindi la collaborazione è massima ed è da sempre. Quindi non sempre purtroppo si riesce a prevenire tutto, ma un'opera di prevenzione è costante. Un confronto quindi su vari aspetti con il direttore del CIVI, che ha voluto tornare sui fatti di qualche giorno fa e anche spiegare qual è l'attività dell'istituto e quale sarà il provvedimento preso per cercare di trovare una soluzione al problema che si è verificato. Ancora la cronaca con due incidenti, fortunatamente di lieve entità, questa mattina intorno alle 7, a poca distanza, l'uno dall'altro lungo la tangenziale di Udine, uno all'altezza dello svincolo per Pazian di Prato, via Monsignor Nogara e l'altro sempre in direzione sud, verso l'immissione su Viale Venezia. Diversi veicoli coinvolti sul posto, i vigili del fuoco e il personale del 118. i disagi si sono registrati, soprattutto riguardo alla circolazione, particolarmente intensa in quella fascia oraria. Adesso andiamo a Monfalcone, una stazza lorda di 135-500 mila tonnellate per 323 metri di lunghezza, la capacità di accogliere 5200 ospiti, sono i numeri di costa Venezia, costruita esplicitamente per il mercato cinese ed è presentata quest'oggi, proprio all'interno delle cantiere, alla presenza anche del ministro dell'interno Matteo Salvini, il nuovo gigante del mare, che è realizzato per costa Crociere, è proprio al momento della presentazione, quest'oggi a Fincantieri. C'è per noi Francesca Santoro, con cui ci colleghiamo in diretta. Ben ritrovata Francesca. Sì, buongiorno Valentina, oggi è una giornata di festa allo stabilimento di Monfalcone della Fincantieri per la consegna della costa Venezia, l'ultima regina dei mari costruita appunto nel cantiere di Panzano, una nave che ha una particolarità perché, come dice il nome, è ispirata a Venezia e alla cultura italiana ed è destinata al mercato cinese, con l'intento appunto di far conoscere agli utenti, agli ospiti orientali, la cultura, la gastronomia e l'arte italiana. Costa Venezia fa parte di un piano di espansione di costa insieme ai Fincantieri che comprende sette nuove navi che dovranno essere costruite entro il 2023 per un finanziamento di oltre 6 miliardi di euro. Oggi appunto la cerimonia di consegna, a cui interverrà anche il ministro Salvini che ha atteso a breve a bordo della nave. Ascoltiamo però le parole del rappresentante di Costa Crociere per il mercato asiatico che ci ha spiegato le caratteristiche di questa nave. Costa Venezia è un nuovo gioiello dei mari costruito a Monfalcone. Quali sono le caratteristiche di questa nave? Beh, questa è una nave veramente un po' speciale perché, come il nome indica, è ispirata a una delle città italiane più famose e iconiche del mondo. Per cui questa è una nave che, come architettura e decorazioni, ha tratto ispirazione dalla città di Venezia e attraverso questa ispirazione abbiamo declinato i nostri spazi interni. E non solo, perché al di là di avere i nostri spazi ispirati alla città, anche il prodotto che andremo a offrire ai nostri ospiti, soprattutto quando la nave completerà il suo viaggio dall'Italia e arriverà in Cina, sarà ispirato all'Italian Lifestyle, visto attraverso gli occhi di quella che è una delle città più famose e iconiche della nostra penisola. Ci sono tutti i comfort su questa nave? Assolutamente sì, ci sono non solo i comfort, ma abbiamo sia delle molto interessanti esperienze architettoniche, quindi con il nostro atrio, ad esempio, che accoglie gli ospiti ispirandosi a Piazza San Marco e abbiamo anche alcuni piccoli gioielli, che tanto piccoli non sono, come due gondole, che sono due gondole originali, che sono state ristrutturate appositamente da artigiani veneziani per essere ospitate a bordo della nostra nave e far parte dell'esperienza per i nostri ospiti, quindi un'esperienza autenticamente italiana. Continua la collaborazione di Costa con Fincantieri? Assolutamente, siamo molto contenti e onorati di questa collaborazione, che ormai è una collaborazione che, come sapete, dura da anni, da decenni, e in particolar modo sono ancora più contento perché nel cantiere di Marghera, in questo momento, è in costruzione la gemella di questa nave, che verrà consegnata nella seconda metà del 2020. Parliamo ora di un'altra azienda del nostro territorio, la Wolf di Sauris, che ha dato i numeri del suo bilancio in salute. Il fatturato 2018 sale infatti a 14 milioni e 300 mila euro, aumentano i ricavi. Nel 2017 il dato era di 13 milioni e 700 mila euro, quindi un aumento di 600 mila euro. In arrivo nuovi investimenti per potenziare lo stabilimento di Sauris. Il conto economico dell'azienda Carnica, specializzata nella produzione di insaccati di qualità, ha fatto registrare una crescita a 14 milioni e 300 mila euro, come abbiamo detto. Quello appena trascorso è stato un anno difficile per il comparto e siamo molto felici di aver chiuso con questo risultato, commenta Stefano Petris, l'amministratore delegato di Wolf. I nuovi prodotti hanno dato una grande mano, la linea di Spec ha portato un ottimo contributo in questa crescita. Molto bene sta andando anche il nuovo Stinco, cotto alla braccia, lanciato a fine 2018. Per andare incontro alla realizzazione di questi nuovi prodotti si pensa a degli investimenti dedicati per lo stabilimento produttivo. Andiamo adesso a Gradisca, dove questa mattina abbiamo fatto una visita, un tour a Casa Maccari, il nuovo centro culturale della cittadina, che ospita anche una biblioteca e il museo. Ma sentiamo che cosa ci ha raccontato il vice sindaco. Siamo a Gradisca di Sonzo, Casa Maccari, il nuovo polo culturale di Gradisca e non solo del circondario, un'opera attesa da lungo tempo, ci sono voluti decenni per ristrutturarla. Con noi il vice sindaco Enzo Boscarolla, a cui chiedo cosa si trova dentro questa Casa Maccari, perché è così importante? Buongiorno, è importante perché dopo, come diceva lei, dopo lungo tempo, è stata inaugurata a metà di gennaio e dentro si trova la biblioteca civica del comune di Gradisca, che è stata appunto trasferita, poi il museo documentario della città, c'è una sala conferenze che ospita varie riunioni e più inoltre c'è anche una sala didattica, un'aula didattica che fa anche da spazio giovani. E una struttura tecnologicamente avanzata? Direi di sì, perché sono stati impiegati tutti gli ultimi ritrovati, tra virgolette, per quanto riguarda sia la biblioteca sia per quanto riguarda il museo. In particolare, direi per quanto riguarda il museo, è stato attivato un video in realtà virtuale aumentata che ripercorre la storia dei primi anni di Gradisca, dal 1400, scusate, 79, quando è stata fondata, fino al 1500, quando è arrivato Leonardo. La biblioteca può vantare 36.000 libri che sono esposti, hanno la caratteristica di essere appunto visibili e quindi i fruttori possono decidere cosa vogliono leggere e non sono nascosti, diciamo, negli scaffali. No, assolutamente, abbiamo voluto come giunta e come amministrazione di mantenere la biblioteca scaffale, vale a dire appunto, come accennava lei, i libri sono tutti visibili e per di più sono, diciamo così, distribuiti su varie sale. Una in particolare è una sala dedicata ai ragazzi, ai ragazzi da zero, direi, fino a dieci anni, dove si fa anche, dove vengono svolte le attività di Nati per l'Ese, quella lettura per i ragazzi. E poi ci sono due sale, una a piano terra e una nel soppalco, quindi al primo piano, per quanto riguarda la distribuzione dei libri per la biblioteca. Questo edificio ospita anche dei corsi, oggi in particolare avete un corso di insiel. Esattamente, questo edificio è il secondo punto, diciamo così, realizzato in regione, in collaborazione fra Comune, Regione Friuli Venezia Giulia e Insiel. È stato messo in funzione il CDDD, è una brutta sigla, ma vuol dire Centro di Diffusione Didattica Digitale e quindi in questo edificio è possibile realizzare appunto dei corsi in videoconferenza a distanza, ma anche dell'istruzione, anche dei corsi per quanto riguarda le scuole, ma anche per, diciamo così, le persone un po' più cresciute. E allora, torneremo dopo a parlare più tardi ancora del centro di Gradisca, mostrandovi anche le belle immagini all'interno del museo. Adesso passiamo allo sport, perché ieri sera all'interno della nostra trasmissione, nel Basket Tournet si è parlato a lungo del nuovo acquisto dell'App UGSA, Alessandro Amici, che si è concretizzata poche ore dalla chiusura della finestra di mercato, un finale di stagione che quindi si preannuncia ricco di impegni per la società e a commentare proprio il nuovo acquisto. C'era il GM Davide Michalic e anche Flavio Pressacco, che ha voluto dire la sua su quelle che sono le opzioni tattiche a disposizione di Coach Martellossi con il nuovo acquisto. Sentiamo. Adesso ho trovato l'annatore che invece lo conosce bene e nel momento in cui ho detto senti Martello, ma secondo me... Guarda, venivo con una sera da Giorgia il lunedì, ero qui fuori, forse 3-4 punti, quindi la cosa è... ha già un mese di tempo. Senti, per me il nostro secatore è amici. Martello era appena arrivato, da parte sento silenzio. Martello? Pronto? Insomma, lì è nata l'idea, lo conosco bene, pregi i difetti, ti prendi il rischio, ma figurati, il rischio non è un problema. Però la scelta io ci tengo a difendere l'annatore, che non si pensi che viene qua perché l'annatore fa il suo lavoro, l'annatore è importante nella scelta da parte del ragazzo, ma la responsabilità come sempre della società, quindi se dopo domani tira un cartone a qualcuno, che non sia colpa di Martello, ecco, tutto qua. E sul nuovo giocatore, Michalic, si è espresso raccontando il retroscena che ha portato all'arrivo del forte player con la maglia della GSA, ma ha voluto anche aprire un po' una parentesi su quello che è il forte temperamento del nuovo elemento a disposizione di coach Martellos. Adesso andiamo alla Dacia Arena, anzi per la precisione, sui campi assolati del Bruseschi, dove l'Udinese si è ritrovata per allenarsi. C'è per noi Maurizio Ferrari, buongiorno Maurizio. Ciao, buongiorno Valentina, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo sul campo numero 3, fino a poco fa la nostra telecamera era invece puntata sul campo numero 4, dove la squadra dopo un primo riscaldamento e una prima attivazione all'interno proprio delle palestre della Dacia Arena ha iniziato una parte in cui inevitabilmente si andrà verso sempre di più la tattica in vista del Bologna. Ecco perché ci siamo spostati sul campo numero 3, dove alla nostra sinistra si stanno anche allenando i portieri, così come per un differenziato uno dei vari singoli che sta cercando di rientrare dall'infermeria Emanuel Badu. Proprio l'infermeria è un po' il tema centrale di avvicinamento a questa partita. Posso dirti che rispetto alla giornata di ieri il gruppo continua a ingrandirsi perché ieri seppur avessimo recuperato due pedine come William, Paul e Kong in mattinata indifferenziato nel pomeriggio invece con il gruppo così come quest'oggi, eppure Id Teravest questa mattina si è ripresentato anche Bram Noiting, ieri per lui c'era stato un differenziato programmato, oggi invece l'olandese è regolarmente al lavoro insieme al resto della truppa, quindi si ampliano un po' anche le possibilità di prove dal punto di vista tattico di mister Davide Nicola, anche perché continua ad essere testato, ha fatto anche nella giornata di ieri, un cambio di modulo, una possibilità di cambio modulo con l'idea del 4-3-3 che è stata presente sia nell'amichevole della tipica sosta sia per quelle che sono state le prime prove alla ripartenza dei lavori proprio qui sul campo numero 3. È chiaro che più pedine recupera mister Davide Nicola e più soluzioni può valutare sia dal primo minuto ma anche a gare in corso, con Sandro che continua ad essere protagonista di tutte le sedute e che dunque può essere assolutamente non solo convocato ma anche protagonista della partita con il Bologna, dove si candida anche per una maglia Sebastian De Maio che è l'ex più fresco, l'ex più recente che vi proporremo nel corso della nostra edizione delle 15, un'intervista esclusiva che abbiamo realizzato proprio con il difensore che ci presenta le sue prime impressioni sulla nuova avventura qui all'Udinese ma anche chiaramente l'importanza di un match delicato come quello contro il Rosso Blu in chiave classifica. Ci rivediamo Valentina nel corso del prossimo TG, quello dell'ora e 12, per il momento è tutto con questi flash e ti restituisco la linea. Grazie Maurizio, ci vedremo allora alle 12, adesso parliamo di quello che è successo a livello internazionale con una ultima ora che riguarda il vertice in Vietnam tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, è arrivata la fumata nera dopo le dichiarazioni di ieri particolarmente ottimistiche al vertice di Hanoi, Trump e Kim non hanno firmato il documento, nessun accordo è stato raggiunto, ha detto Trump aggiungendo che le riunioni sulla denuclearizzazione continueranno in futuro. È stato cancellato il pranzo con Trump e anche la cerimonia di firma della dichiarazione congiunta, c'erano diverse opzioni, ha detto il presidente americano, ma abbiamo deciso che non era una buona cosa firmare una dichiarazione congiunta al summit. Abbiamo rifiutato la richiesta di togliere le sanzioni, le differenze sono state ridotte, ma Kim ha una certa visione che non coincide con la nostra. Così ha riferito Donald Trump. Adesso vediamo tutte le altre notizie di giornata insieme a Lanza. Romano Prodi riapre la sua tenda e la pianta di nuovo dalle parti del PD, dopo che negli anni precedenti aveva detto di averla allontanata. L'ex premier ha infatti lanciato un appello a recarsi domenica a votare alle primarie dei Dem per dare forza al futuro segretario. Dobbiamo andare in tanti a votare, ha detto Prodi in un videomessaggio. L'Italia non va bene, i due partiti di governo non fanno altro che litigare e ci hanno diviso da tutti gli altri amici europei. Il fatto che il padre dell'Ulivo lanci questo appello senza schierarsi tra i tre contendenti dovrebbe aiutare a superare la soglia del milione di votanti ai gazebo, traguardo certamente importante. Intanto Roberto Giacchetti minaccia di togliere il disturbo se, in caso di vittoria di Zingaretti, questi punterà ad un accordo con il Movimento 5 Stelle e a far rientrare quanti sono usciti insieme a Pierluigi Bersani, respinta anche l'idea di Martina e dello stesso Zingaretti di una segreteria unitaria. Giacchetti ha sottolineato invece la diversità della sua mozione rispetto a quella degli altri due sfidanti, incentrata nella difesa orgogliosa di una linea riformista. Concetti rilanciati anche da Sandro Gozzi, se Zingaretti mira a fare un DS in versione 2.0, farà le valigie anche l'ex sottosegretario di Renzi e Gentiloni, con sottolineatura polemica verso l'ex premier che, insieme a molti altri ministri del governo Renzi, ora appoggia Zingaretti. Io so chi è Donald Trump, un razzista, un truffatore e un bugiardo. Non voleva fare il presidente, ma solo vendere il suo marchio. E mi vergogno di aver preso parte ai suoi illeciti invece di ascoltare la mia coscienza. Michael Cohen, 52 anni, ex avvocato personale e fedelissimo del tycoon, è tesissimo quando per il secondo giorno di seguito inizia a parlare davanti al congresso americano, sapendo però che stavolta si tratta di una testimonianza pubblica e ci sono milioni di persone incollate alla TV per seguirlo in diretta. Subito le scuse per non aver detto in passato la verità e per aver messo avanti a tutto e tutti le sue ambizioni personali, anche davanti a famiglia e figli. A tratti sembra anche cedere ad un po' di commozione, ma poi ritrova il piglio sicuro e spregiudicato di sempre e con freddezza attacca senza mostrare alcuna esitazione. Mr. Trump ha mentito agli americani. È il momento più drammatico, il colpo che in molti aspettavano, l'affermazione che più di altre mette in difficoltà l'inquilino della Casa Bianca. Sulla possibile collusione con la Russia, solo sospetti e strane interazioni con Putin, ma Cohen porta davanti ai deputati della Commissione Vigilanza della Camera soprattutto le prove di molte delle bugie di Trump, tra cui quella sui pagamenti per nascondere le relazioni con due donne o quella sui negoziati con i russi per costruire una Trump Tower a Mosca. E adesso diamo un'ultima ora che riguarda i carabinieri di Cividale del Friuli, per la precisione per la stazione di Tarcento, che hanno denunciato per l'ipotesi di reato di truffa un 45enne campano che aveva pubblicizzato sul web un finto annuncio di un appartamento in affitto nella località turistica italiana. Si è fatto accreditare la somma, ma poi non ha corrisposto a lei, bene, 350 euro. A Tarvisio invece denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi ad offendere un 47enne cittadino ucraino, lo straniero alla guida di un autocarro con targa estera, è stato trovato in possesso di un coltello a Serramanico, occultato nel vano portaoggetti del veicolo che è stato posto sotto sequestro. E con questo noi ci fermiamo, adesso diamo un'occhiata alle previsioni del tempo per oggi e ci ritroviamo fra poco meno di un'ora. Dicevamo del fronte da nord per la giornata di domani, qualche precipitazione specialmente sulla parte sudorentere della regione, ma possibile dovunque appunto. Si tratterà di fenomeni isolati e di debole intensità. Per quanto riguarda il fine settimana si ristabilisce un andamento maggiormente anticiclonico, però con maggior presente in umbilità nei strati meteo bassi, con un ozono termico intorno a 1800 metri, quindi più basso rispetto a questi ultimi giorni. Avremo quindi variabilità con antitratti di schiarite, specialmente sulle zone più elevate e invece foschie che avvenitoranno, specialmente la salata domenica, su basso di minore costa, foschie o nebbie, che potrebbero poter trasformarsi in umbilità se nelle prime ore del mattino. Temperature torneranno a aumentare leggermente nei valori massimi, riportandosi sempre intorno ai 15 gradi, prendendo come riferimento specialmente in la piruga.